segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora adesso di là delle della della pantomima fatta da cremaschi l'italia il vero problema che c'è una grandissima rivecoltà c'è una incommunità una volta vi prego vi prego ma smettila ma ma mi scusi ma come si fa a dire imprenditori sfruttatori adesso io lascio parlare brambilla ci mancherebbe altro però cremaschi come fa a dire imprenditori sfruttatori ma per cortesia ma faccio un cartello io voglio sentire michele brambilla come faccio a spiegarvelo qualcuno che non lavora bene come chi voglio dire fa il curbetto del reddito di cittadinanza mi permetta la trovo la trovo illiberale abbassiamo gli audio sento brambilla